Il pubblico proprio delle grandi serate, sono un abitué di questo luogo, ho presentato molti scrittori e scrittrici, non farò la lista per non metterti così, per non farti godere troppo, ma devo dire che questa sera c'è anche molte persone ancora fuori, spero che siano riusciti a entrare. Io sono molto contento di essere qua stasera perché ho avuto una giornata di lavoro abbastanza difficile e dura e il mio unico momento di relax era pensare che questa sera sarei venuto a presentare il libro di Chiara, a vedere Chiara e proprio questo era il pensiero che mi rilassava. Quindi adesso mi rilasso, io posso dirvi che questo libro, poi lo capirete, io e Chiara ci conosciamo da molti anni, siamo amici davvero, come succede spesso che si dice qualcuno, sono amico, poi in realtà noi siamo amici veramente. Questo libro ho capito che sarebbe diventato un successo prima ancora di leggerlo, proprio perché ha colto una cosa fondamentale che oggi c'è, cioè il bisogno di ricette. Io dico sempre che le librerie ormai sono delle farmacie. Si va in libreria in realtà per prendere un farmaco che ci può far sognare, distrarre o ci può servire, ci può aiutare a cambiare qualcosa di noi stessi e non credo proprio che mai come in quest'epoca ci sia questa associazione fra la libreria e l'idea di farmacia dell'anima. E questo libro è sicuramente un libro farmaceutico, ma è una medicina buona perché si ride molto, è però un libro che vi lascia qualcosa dentro perché in questo libro, adesso ne parleremo a lungo, Chiara ci racconta come la protagonista che si chiama, ovviamente no, ma si chiama Chiara, a un certo punto, casualmente si chiama Chiara, arrivata a un punto buio della sua vita, a un vicolo cieco della sua vita, prova a fare una cosa che non ha fatto mai, cioè a seguire il consiglio della sua psicologa o provare ogni giorno a fare per dieci minuti qualcosa che non ha mai fatto. Ecco io penso che, la prima cosa che vi chiedo a tutti, adesso mentre noi cominceremo a parlare, pensate quanto tempo è che non fate più qualcosa per la prima volta. Da bambini facevamo tutto per la prima volta, infatti eravamo sempre stanchissimi perché facendo tutto per la prima volta ci mettevamo un carico di energia pazzesco, perché era la prima volta. Adesso forse facciamo troppo spesso le solite cose, diciamo sempre le solite frasi, ci rifugiamo sempre nei soliti luoghi comuni, difensivi, sul giornale leggiamo sempre l'articolo di quello che la pensa come noi, così ci rassicura nelle nostre sicurezze, cioè viviamo sempre di ultime volte e abbiamo anche questa visione del futuro come un declino inesorabile, come un qualcosa che ci porterà via le cose che abbiamo, non ce ne darà di nuovo. Invece pensate cosa vuol dire addestrare un cervello a pensare ogni giorno per dieci minuti che deve fare qualcosa che non ha mai fatto. Pensate che Gerovital straordinario è per il cervello, che aiuto incredibile e le cose che fa chiare in questo libro sono, alcune sono anche molto divertenti e alcune sono molto commoventi e la prima cosa che ho capito leggendolo ed è quella che mi è rimasta più a fondo, ormai a distanza di oltre un mese da quando l'ho letto, è che per il nostro cervello non ha importanza la qualità della cosa che fa, cioè la prima cosa che lei decide di fare che non ha mai fatto nella sua vita è di mettersi uno smalto color fucsia sulle unghie e quindi una cosa se volete molto così frivola. Poi nel corso del libro farà delle cose invece enormi, eppure io sono convinto che per il cervello umano è la stessa cosa. Non è importante la qualità del gesto che facciamo ma proprio l'idea che esploriamo un territorio nuovo, fosse anche solo quello di cambiare per un attimo la nostra immagine dando un colore che non l'avremmo mai pensato di dare alle nostre unghie. Lo dico perché questo è un libro da cui veramente ti allontani alla fine con grande entusiasmo. I libri belli di solito hanno due caratteristiche, quando li finisci la prima è che ti dispiace che siano già finiti, la seconda è che ti mettono voglia di cambiare qualcosa nella tua vita, ecco questo libro obbedisce a entrambe le caratteristiche, qui mi taccio perché sono già detto fin troppo fin troppe cose belle. Chiara io comincerei ovviamente dalla prima cosa che penso possa interessare a tutti, cioè come ti è venuta proprio l'idea, l'idea di fare una cosa, un'idea così semplice però così nuova, l'idea che ogni giorno la tua protagonista potesse fare qualcosa di nuovo per dieci minuti e alla fine cambiare tutta la sua vita. Grazie, ciao buonasera, siete tanti, io sono sempre molto emozionata di essere qui a Torino, io qui ho passato degli anni importanti, vedo tante persone che ho conosciuto in quegli anni perché io ho vissuto a Torino, dovevo ancora laurearmi, avevo 22-23 anni e conducevo Parola Mia col professor Beccaria e con Luciano Rispoli e lì ho conosciuto anche Massimo, ti ricordi? Era nella puntata? La prima volta che andavo in tv ero mozzanatissima, mi avevate messo in quella, no ci ero andato una volta molti anni prima con Funari ma quella l'ho rimossa, penso che non ci sono più tracce neanche nelle cinetele. Devo dirvi, era venuto in una puntata perché ogni puntata era dedicata a un tema e quel giorno toccava a Torino ed era registrata perché noi andavamo in diretta tutti i giorni e registravamo giovedì quella del venerdì perché eravamo tutti di Roma e Massimo venne in una puntata che era il cui tema era Torino e registrammo la puntata e nel pomeriggio Mori Agnelli e quindi praticamente andò e quindi era una puntata e ci fu, ti ricordi che c'era tutto il sottotitolo perché appunto era una puntata andando in onda con il sottopancio con un continuo perché non si poteva evitare di parlare del fatto. Comunque insomma è una città che io veramente sento per certi versi anche più cara della mia che è Roma e quindi grazie di essere così in tanti e porto con emozione questo libro che è molto diverso dagli altri miei romanzi perché è in effetti un fatico a considerarlo un romanzo perché hai ragione, è una specie di medicina, una medicina che io però per prima cosa ho provato. Io fin da piccola, io ho cominciato a scrivere molto molto piccola e non sono figlia di intellettuali, mio padre fa l'ingegnere, mia mamma fa la ragioniera e fin da piccola non riuscivano mai, non riusciva a calmarmi niente se non che verso i quattro anni ho cominciato a capire che ascoltare una storia mi riusciva a calmare perché la realtà mi spaventava molto mentre invece le storie, tutto ciò che aveva a che fare con il mondo della poesia o della fantasia mi rassicurava. Questa premessa per dire che quando ho cominciato a fare questo gioco che mi è stato proposto da una mia amica che in effetti fa la psicoterapeuta ma mi è stato proposto quasi per disperazione sua di ascoltare la disperazione mia, nel senso di solito le persone quando stanno male tendono a diventare ancora più narcisiste perché non pensano erroneamente che osservando in continuazione i loro problemi li risolveranno invece se ci pensiamo, anche se ci mettiamo a osservare ad esempio questo gradino per una, due, tre ore, comincerà a deformarsi questo gradino, non diventa più uguale, diventa un'altra cosa e quindi questa mia amica psicoterapeuta mi ha detto ma perché non provi a combattere le tue ossessioni distraendoti dalle tue ossessioni, fai questo gioco di ispirazione steineriana, Rudolf Steiner se lo inventò questo gioco, ne parlò vagamente durante una conferenza negli Stati Uniti e io diciamo con il coraggio e l'incoscienza delle persone che non hanno niente da perdere ho cominciato a farlo e mentre lo facevo ho capito che forse per la prima volta nella mia vita vivere mi stava interessando quanto mi interessa di solito leggere o scrivere perché arrivava, questo è il primo effetto di questo gioco, davvero un principio poetico nella realtà perché sembrava improvvisamente la realtà sembrava poetica, sembrava avventurosa e anche se appunto il gioco è minimo però invece è enorme perché le cose che non abbiamo fatto sono molte di più di quelle che abbiamo già sperimentato ma non lo sappiamo e poi ci vuole un'organizzazione perché per un mese devi pensare domani faccio questo, dopo domani faccio questo, ad esempio a un certo punto non tutti i dieci minuti sono i dieci minuti che io ho fatto perché a ragione Massimo alcuni sono talmente stupidi i dieci minuti che ho fatto realmente che magari se proverete il gioco vi ritroverete a fare che comunque non avevano diciamo un'aspirazione romanzesca dentro di loro per esempio a un certo punto ho portato il mio cane al circo Massimo, chi conosce Roma lo sa, però non era una cosa per me però e penso per il mio cervello mentre non se ne accorgeva proprio perché non se ne accorgeva stava succedendo qualcosa di importante. Ma ti amo a un cellulare che non sapevi chi era? Quello l'hai spedito, quello è vero invece. Quindi diciamo che l'idea di scrivere il libro è venuta, io durante tenevo un diario e poi attaccavo dei post-it sopra la mia scrivania. A un certo punto ho capito che il mio nuovo romanzo lo stavo vivendo, cioè che non poteva che essere questo. In effetti sì, ti amo, ecco anche quelli che sembrano forse più, più diciamo improbabili invece le ho fatte davvero. Il ti amo a uno sconosciuto sì. Camminare di spalle per dieci minuti? Quello sì. Quello è verissimo e lo si capisce perché lei lo ha fatto a Roma e nessuno si è accorto perché a Roma è la cosa meravigliosa di Roma che puoi fare qualunque cosa e dato che a Roma fanno tutti qualunque cosa, se tu cammini per dieci minuti di spalle nessuno nota, dice ma vabbè, no. Quello mi ha stupito molto anche perché non ero sola, vedrete che l'io narrante ha dei Sancho Panza, cioè la Don Quixote di questa riforma personale, di questa avventura, ha delle persone attorno a sé, magari poi ne andremo a parlare e sono tutte persone smarrite come lei, diciamo a cui manca momentaneamente un pezzo, o almeno così pensano loro. E in effetti sì, poi ogni volta, perché ogni esperimento porta con sé inevitabilmente delle riflessioni, poi non sarebbe reale se ogni esperimento fosse epifanico, per esempio a un certo punto si prova il ricamo e dice semplicemente non mi è piaciuto, però comunque è stata l'occasione per visitare un mondo, per capire che esistono negozi in cui si vende qualcosa che tu nemmeno immagini, a cui non hai mai pensato. E il camminare sì, in effetti è vero, Roma è una città, in questo non lo so se Torino come si comporterebbe. Torino, dopo tre secondi che fai una cosa strana. Io ero sotto braccio a un ragazzo di 19 anni, etiope, nel libro Eritreo, e lui era stupitissimo di questo, dice, ma chiami, ma come mai nessuno ti guarda? Veramente era incredibile, era l'8 dicembre, quindi Roma era impegnata ad accorgersi che stava arrivando Natale, e nessuno mi ha guardato, però l'indifferenza diventa anche quella un'occasione di riflessione. Penso che Torino, quando parcheggi la gente si ferma a vedere se righi le macchine, cioè però li vedi Sanlino, si fermano in 4 o 5, vediamo un po' se parcheggi bene o se fai la strisciata. Una roba, io infatti sparisco e vado a cercare un parcheggio diverso perché mi mette l'angoscia vedere tutte queste persone, però è così, a Roma potete fare tutto, non girare nudi, c'è proprio il famoso Marziano di Flaiano. È quello, infatti ha citato, però dopo c'è la giornata di Natale in cui ci si veste da Babbo Natale, lì invece succede qualcosa, però penso sia più collegato al Natale che a Roma, a quel punto tutti diventano più disponibili a guardare fuori rispetto al dentro. Ma tu ti aspettavi onestamente, mentre lo scrivevi avevi la sensazione di toccare un tasto universale, perché poi molto spesso noi leggiamo dei libri che magari ci prendono anche molto per la storia, però ci rendiamo conto mentre leggiamo che sono esperienze in cui non possiamo identificarci. Questo invece è il classico libro, io penso che tutti come ho fatto io, dopo averlo finito inevitabilmente dal giorno dopo cominceranno anche loro a dire cosa posso fare oggi per dieci minuti che non ho mai fatto. Cioè è un libro che entra davvero nella vita delle persone, te ne rendevi conto oppure scrivevi in trance. Ma allora, mentre giocavo in effetti c'era un effetto attorno a questo esperimento, che ricevevo messaggi tutti i giorni delle persone a cui dicevo, sai sto facendo questo esperimento, sto provando a fare questa cosa, i cui esiti poi sono raccontati nel libro, però lì per lì non li sapevo, semplicemente appunto facevo. E vedevo che, avete presente quella scena di Forrest Gump dove lui si mette a correre e tutti si mettono a correre dietro senza capire perché, o forse proprio perché non capiscono perché, perché è qualcosa di insensato, ma che proprio perché è insensato sembra giusto. E attorno a me si creava, ogni mattina io ricevevo molti, ma oggi che fai e domani che fai, c'era tutta una comunità. Poi invece quando l'ho scritto io diciamo che non penso mai ai lettori, le mie storie nascono sempre da un'urgenza molto forte, che mi stupisce sempre di condividere poi con i lettori, anche se fatico a non considerarmi io per prima una lettrice di quello che scrivo, tanto ne ho bisogno. Anche se in una presentazione, mi pare che fosse a Bologna, c'era una serie di persone proprio perché hanno cominciato a giocare, che avevano letto il libro e mi sono venute a parlare alla fine della presentazione e c'è una poverina che si è avvicinata e ha detto senti ma io non ho nessun problema, lo posso leggere pure io questo. Dice a me mi andrebbe tutto bene e io penso di sì, nel senso che penso che a ragione massima, ci riflettevo proprio qualche tempo fa, quando siamo piccoli, impariamo, facciamo tante cose per la prima, ci allacciamo le scarpe, impariamo a come si usa la forza, poi a un certo punto, ma è proprio scientifico, dice che c'è un periodo che si chiama periodo di latenza, che va dai sei agli otto anni, dove pare che il cervello umano non impari niente, se dimenti solo, dai sei agli otto anni, periodo di latenza, lo chiamava Jung, dopodiché diamo un po' per fatto tutto, ma è questo davvero un peccato, è questo davvero un peccato perché invece, come è un peccato che nei momenti di serenità o di felicità, se possiamo tirare in campo questa parola un po' scomoda, ma necessaria, è vero che il dolore, se ha qualcosa di positivo, è quello che ci chiama a reagire. Sarebbe bello che anche quando le cose vanno bene ogni tanto facessimo passare un giro di ronda per magari mantenerle. Io leggendo questo libro mi sono confermato in un'idea che ho da qualche tempo, cioè che quello che manca a noi oggi fondamentalmente è la follia, noi non siamo più capaci di essere folli e l'amore è esattamente questo, cioè l'amore nella sua essenza vera è una forma di assoluta follia. Prima di Capodanno ho visto un film che bisogna dire che è bellissimo, perché se non lo dici vieni passato per una persona troppo popolare, è un bel film, still life, è un bel film, però ne sono uscito depressissimo, perché è la storia di un uomo che è tutto precisino, è una figura straziante che va ai funerali di quelli che non hanno nessuno, non vi racconto proprio il finale finale perché è molto commovente, molto bello, però il pre-finale, quello ve lo racconto, ed è un messaggio di una tristezza tremenda perché quest'uomo dall'inizio del film inglese, prima di attraversare la strada, essendo molto preciso, si guarda a sinistra e destra dieci volte anche in una strada di campagna, verso la fine del film si innamora e cosa fa? Attraversa la strada senza guardare e ovviamente pum, è una roba che dice ma perché io ho speso dieci per venire qua a sentirmi questo messaggio, poi io che sono un amante di lieto fine dico ma perché? Poi c'è tutto un finale successivo che piace molto, molto commovente, però il pre-finale è questa roba qua e c'è il messaggio è non dovete mai innamorarvi, non dovete mai perdere la testa perché la vita vi castiga, ma io ho l'impressione che la vita ci stia castigando di brutto in questi ultimi anni proprio perché abbiamo smesso di perdere un po' la testa, di essere un po' folli, di avere questa capacità proprio di metterci in connessione con questa strana energia che non fa parte della nostra vita quotidiana e che di solito intercettiamo solo quando amiamo. In fondo i tuoi dieci minuti quotidiani sono trenta innamoramenti, sono trenta momenti d'amore, anche se non sono amore, sono comunque delle reazioni che nella nostra vita abbiamo soltanto quando veramente siamo innamorati. Io dico una scemenza, per esempio si dice sempre in un luogo comune, ma è vero, è successo a tutti noi, che quando ti innamori, la prima volta che baci una ragazza che sei innamorato, quando poi lei la riaccompagna a casa ti viene voglia di camminare da solo, correndo e saltando per la strada. Ecco ma perché uno non può farlo anche adesso, una sera uscire di qua e andare in giro per Piazza Castello saltando e ballando. Spiegatemi per quale motivo, se un signore gira per la strada con tre telefonini è una persona normale, mentre qualunque persona che ci guardasse con un occhio obiettivo sembrerebbe un pazzo totale. Invece se tu vedi uno che cammina di spalle, dice quello è un cretino, però se invece c'ha tre telefonini, batte le ginocchia, strabuzza gli occhi, è in ebrotico, urla come un pazzo, cioè no ma è una persona molto impegnata. Cioè dov'è che è successo qualcosa che ci ha fatto saltare un po' di collegamento? E infatti nel capitolo che a me è più caro, perché è anche legato a uno dei giorni, tra l'altro il film a me, devo dire la verità, a quanti di voi è piaciuto? Sì, io l'ho trovato... Non andrà a vedere più nessuno, mi dispiace. No, no, perché... Sì è un film molto legato, vabbè poi magari ne possiamo parlare. Però è bellissimo quello che dice Massimo, perché non ci avevo pensato, ma è vero, vedrete il finale, adesso poi vi ha raccontato il finale del film, ma non vi racconteremo il finale del libro, ma in effetti è un po' un inedito lieto fine. Nel senso che ovviamente c'è una storia d'amore, una storia d'amore in crisi, uno dei motivi per cui Leo Narrante si sente smarrita è perché le tre dimensioni in cui si rispecchiava, che erano la dimensione lavorativa, la dimensione affettiva, è sposata con... diciamo è abituata ad amare lo stesso uomo da quando è adolescente, in un modo o nell'altro sì, è sempre stata abituata ad amare la stessa persona e poi si ritrova improvvisamente dalla campagna al centro di Roma. Eppure diventa molto più appassionante di pagina in pagina, a un certo punto lei con questo marito con cui è in crisi si ritrova a non rispondere al telefono perché è troppo distratta da questo innamoramento che poi forse è con se stessa, ma non in una maniera narcisistica, no? In un'altra maniera. E in effetti uno dei capitoli che mi è più cari è quello in cui lei si mette, questo l'ho fatto davvero con un mio amico musicista, mi ha prestato un microfono direzionale, sono quelli che usano le spie, cioè che usano gli investigatori privati e quindi puoi sentire girando per Roma tutto quello che dicono le persone a distanza di 200 metri. E quindi mi sono fatta... Posso dirti, io sai che conosco molto bene Roma, ci ho vissuto tanti anni, non c'è bisogno del microfono direzionale, visto il timbro di voce normale, cioè a Torino sì perché noi urliamo anche piano, a Torino si urla piano, basta così, il torinese tipo urla piano, che è una cosa unica al mondo. A Roma invece anche solo per dire passami il caffè lo sentono fino all'Eur. E invece però appunto mi sono fatta un giro nei tavoli e in effetti ho scritto, scrivevo in questo quaderno tutto quello che sentivo ed ha ragione Massimo perché erano dei discorsi che io poi, secondo me l'effetto è davvero straniante perché li ho messi uno dopo l'altro e dicono, ce l'avevano, quasi tutti parlavano di Twitter, di queste cose, di Monti che aveva Twitter che stava scendendo Monti in politica, erano quei giorni lì. E a un certo punto, poi adesso magari lo leggeremo il passaggio, era davvero asfisiante a proposito di dov'è la normalità e dov'è la follia. Ed è arrivata la cosiddetta matta del quartiere, non so se anche a Torino siete così gentili, però a Roma si chiama così, no? Anche qui, in questo sì, il matto del quartiere, la matta. Detta però anche con, lei poi è una persona molto nobile, molto nobile anche nei movimenti. Io l'altro giorno penso che l'ho incrociata e stavo con una mia amica e ho detto, ma secondo te glielo dico che è protagonista del libro, ma ho detto, no, però forse questo è troppo. E lei, a un certo punto io stavo sentendo queste conversazioni e è arrivata proprio come una stella cometa, lei che diceva ma basta, dice, è troppo tempo che le tue scimmie stanno attaccate al mio albero. E improvvisamente Leo Narrante riflette e dice, lo so che è troppo facile così, quindi non entrerò nella retorica che è matto e bello, perché, però certo queste parole improvvisamente mi ridanno una fiducia sull'umanità che tutti questi discorsi che ha detto quello, che ha detto quell'altro, il Twitter, le cose, mi fanno un po' perdere. E quindi in effetti è lì c'è, in un certo senso, il cuore del libro. I discorsi della gente, sono tutti veri, sono tutti veri. L'ultimo sì, perché quello che parla di calcio è sicuramente vero, perché Roma è l'unica città al mondo dove si parla di calcio più che a Torino, si parla solo di calcio. Però c'era stata una partita importante. C'è sempre una partita importante. Dove, era stato un Roma-Milan abbastanza evidente. Sui taxi non potete nemmeno dare l'indirizzo che il tassista vi zittisce perché sta sentendo radio radio e sta parlando della Roma, quindi non dovete disturbarlo. Dove è la fermata dell'autobus che porta direttamente alla nuova fiera di Roma? Su via Nazionale, credo. No, è su via Cavour. Che gli regali a Paolo per Natale? Un maglione della Timberland. Ho comprato delle scarpe per il trekking proprio ieri della Timberland. Hai visto su Twitter che casino, dopo che Berlusconi è andato ospite alla trasmissione della D'Urso? Selvaggia ha scritto, la D'Urso che è tanto amica delle donne? Come mai non chiede a Silvio perché le minorenni non le lasciate andare al cinema con le amiche? Eh, ma questo non è assurdo. Che la gente parli di queste cose? E tu che ti aspettavi che parlassero, scusa? Cioè, speravi che parlassero della critica della ragione pura? E questo è il mondo... Non vai mai sui commenti di... No, ma a me piacerebbe che... Ma a me io non critico... Cioè, non entro nel merito delle cose che si... Ma che si passi attraverso Twitter, che è passato attraverso Barbara D'Urso e che è... Di qualcosa di tuo. Che c'è in quella centrifuga? Oggi pomeriggio Monti twitte il manifesto della campagna elettorale. Arancia, carota e zenzero. Che penso sia la centrifuga o era il programma di Monti, forse. Ho fatto il nuovo abbonamento della Tim. 10 euro, 400 minuti di chiamate, 1000 sms, 2 GB di internet. Belen è bella, è simpatica, fa i balletti, sta senza mutande. Ha detto così Emma. Però lei da Simona Ventura ha risposto, c'è chi se lo può permettere. Poi sono questi che scrivono i giornali dicendo, basta sempre solo parlare dei VIP, ci avete stufato, parlate della gente comune. Poi però... Che stronza, che stronza. A me sta simpatica invece. Hai letto su Repubblica, praticamente i dipendenti della Apple dicono che Steve Jobs era fascista. In effetti prima sui treni eravamo disponibili a fare amicizia. Ora per colpa sua stiamo tutti con il naso ficcato nell'iPad. Per colpa sua di Jobs. E infine, assurdo, il cartellino rosso a Marchignos. Era sicuramente il più... Però è vero, poi ce ne sono molti altri, perché comunque il mondo... Però è così. Per esempio questo cos'è. Quanti follower ha Fini? Che oggi ha viaggiato con me in aereo, fra l'altro. Però... Posso dire quello che mi hai detto il telemma? No, perché Chiara che ha inventato una delle... Lei ogni tanto... No, sempre. Ma in certi momenti ha delle... Veramente delle punte di così... Oscilla delle punte di genialità. E una volta per parlarmi di una ragazza che è molto ego riferita, mi disse, sai la classica tipa ciao come sto? Che secondo me è una definizione. Allora oggi, in un attacco di ciao come sto, mi ha detto, pensa, ero in aereo con Fini e Barbareschi. Se cadeva l'aereo avrebbero detto è morto Fini. Cioè non avrei avuto... No, però c'è stata una turbolenza, non è che... Io ti ho risposto, perché io sicuramente avrei fatto il coccodillo su di te. Sì. No, su Fini. E poi Fini non ha mai venduto tutte le copie di libri che hai venduto tu. Ha fatto un libro intitolato Il Ventennio, che credo abbia venduto 20 copie. Sì, no, non credo. Però il ciao come sto invece nel libro si chiama Egoland. Sì. Ed è uno dei passaggi fondamentali di questo libro, perché vedrete che ogni settimana poi lei torna dalla psicologa che l'ha consigliato questo gioco e riflette su quello che ha fatto, perché mentre lo fa, ecco, per una volta non lo recensisce, lo fa. E si accorge, è un racconto che lei aveva scritto, Egoland, che invece io non l'ho mai scritto, però il titolo invece mi piace. E si accorge come lei con Egoland intende il narcisismo. Perché questa è la storia dell'uscita da un narcisismo. Ed è strano, perché sembra invece un romanzo narcisista perché è una persona che fa tante cose. E invece no. Lentamente lei che è abituata a, diciamo, non a caso all'inizio lei chiama mio marito con la lettera maiuscola, casa mia, la mia rubrica sul giornale che poi l'è stata tolta, con le maiuscole. E è tutto un gioco ad abbassare quelle maiuscole, a renderle minuscole e ad alzare, diciamo, la E di esistenza che contempla tanti altri mondi di cui lei non... di cui tutti noi, di cui io per prima, non riusciamo, diciamo, a davvero a pensare che esistano. E invece man mano, lei comincia poi ovviamente, poi c'è l'altro per eccellenza che è questo ragazzo etiope con cui vedrete andrà a formare qualcosa che somiglia quasi ad una famiglia, anzi che forse proprio è una famiglia. Però ecco, tutto il libro è un'uscita da quell'Egoland, perché diciamo io ciao come sto, lo dico agli altri, però non è che... E ci sono dei personaggi, il mio personaggio preferito, lo leggerete, è Giampietro. Giampietro è un personaggio divertentissimo perché lei è riuscita a trovargli una forma di... un modo di parlare che veramente non avevo mai letto. Cioè lui è il gay che parla tutto al femminile. Cioè gli dice tu devi smetterla di telefonare alla tua marita, invece dice adesso ti preparo una bella pranza, cioè lui fa tutto al femminile. Finché a un certo punto lei si accorge, lei l'Ionorante si accorge che lui finalmente si è davvero innamorato di un altro uomo quando per la prima volta parla di un suo partner al maschile. E quello è, devo dire, è veramente bello perché non avevo potuto reggere un intero libro di conversazioni con questo Giampietro che parla al femminile è veramente molto molto divertente. E lui è un bel personaggio. Sancio Panza oltre Ato che è il ragazzo eritreo. Anche Giampietro è costretto a scegliere fra la sua identità sessuale e la sua identità familiare. Per questo sono lui e Ato i Sancio Panza di questa avventura perché le sono compagni, le sono amici, sperimentano assieme a lei. Io, in questo chi conosce i miei libri lo sa, io amo sempre raccontare questi personaggi, diciamo che poi è l'unica umanità che a me davvero interessa anche frequentare, cioè quelle persone fondamentalmente uguali solo a loro stesse che proprio per questo soffrono e faticano a trovare un posto nel mondo. Però la loro ricerca mi commuove e mi interessa. Sono persone non convenzionali e il trio è immortalato in questa foto dove i dieci minuti prevedevano che girassero per strada vestiti da Babbo Natale, che in effetti è una cosa che io non ho mai fatto, nemmeno io. Questi siete voi veramente però, questi siete davvero voi e quindi questa è una foto vera. Niente, insomma è un libro davvero molto particolare, davvero molto particolare. È difficile perfino parlarne perché poi alla fine è l'idea, cioè è un libro che si regge su questa idea molto forte e ti fa ovviamente empatizzare davvero molto con il personaggio, molto poco con il marito, devo dire. Il marito di lei. Sì, poi nei miei libri, diciamo io mi interessa sempre più che condannare un comportamento maschile o femminile, mi interessa sempre perché l'altra parte si trova coinvolta nella relazione con qualcuno di così evidentemente diverso. Ecco, mi interessa sempre e infatti non c'è rancore, ma questo in tutti i miei romanzi, soprattutto in quello che avevamo presentato qui insieme nella zona cieca. Cioè mi interessa sempre capire, mi ricordo che quando uscì la zona cieca, quando uscì la zona cieca, l'editore che al tempo era Bonpiani lo lanciò dicendo Chiara Gamberale che scrive storie d'amore che possono leggere anche gli uomini. A me è sempre sembra che c'è qualcosa d'offensivo in questa cosa, non lo so se per gli uomini, per i romanzi d'amore, per le donne, non lo so, per me credo di no, perché doveva essere un lancio pubblicitario, però c'è qualcosa di strano in questa frase. E comunque in effetti credo che questo sia detto perché anziché dire quello guarda quanto è cattivo, mi piace capire perché, e infatti mi piace capire perché il mio io narrante non riesca ad uscire da una relazione con un uomo e la frase gliela darà proprio la matta del quartiere, perché poi improvvisamente tutti i personaggi che incontrerà diventeranno degli insegnanti. Come lo diventano le persone se cominciamo ad ascoltarle come se ascolta un oracolo, quindi interpretando ciò che gli altri dicono, perché la matta in quella famosa, quando si mette a urlare e improvvisamente la sua voce, ma per qualità, non per tono, copre tutte le voci sui tweet e sulle cose, dirà basta ma se stai o dentro o fuori, se stai sulla porta dello zoo o blocchi il traffico. E lei improvvisamente avrà una rivelazione su, diciamo, l'incertezza, sull'ambiguità del comportamento del suo compagno o ex compagno che sei, e gli dirà o dentro o fuori sulla porta blocchi il traffico. Però a me interessa più che capire perché lui non riesce a stare dentro o fuori, perché una donna possa in qualche modo, diciamo... E con questo riguardo, volevo farti una domanda, me lo sono posto anche oggi sul giornale, c'è un interrogativo che noi maschi ci preoccupa, noi vogliamo capire come fa questo land a piacere a... Cioè è una cosa, no, lo ammetto, è invidia, è solo invidia, non c'è nessuna secondo... Cioè questo land, che voglio dire, allora, fisicamente, io non sono un esperto di uomini, ma insomma non mi pare Johnny Depp, quando parla, fa dormire a me, pare che i francesi dormono, lo chiamano il vicepresidente perché praticamente sembra il vice di se stesso, eppure Segolen lo ha amato al punto da presentargli, da baccagliare con quella che l'ha seguita e poi da presentargli addirittura, pur di andare contro alla compagna attuale, la perfida Segolen gli ha presentato anche l'amante e adesso tutte e tre baccagliano, per Stomino, per Stomino che sembra Defuné, cioè senza essere simpatico come Defuné. Però secondo me, a parte che stamattina io ero ospite ad Agorà e insistevano a farmi domande, io non riuscivo a rispondere, cioè che non mi interessa, proprio perché non mi, no no perché lui, no no, non mi interessa lui perché lui dice ma ma lo trovi affascinato, no, questa domanda, però lo sai che proprio questa letteratura psichiatrica, pare che, cioè un uomo narciso in nullo attragga molti, cioè una donna, la cosiddetta donna evitante, come tutte e tre forse queste donne sono, com'è questa? Evitante autarchica, cioè donne che, come in effetti Segolen, anche questa io non so pronunciare il nome di questa qui, dell'attuale, Valérie però il cognome non lo so dire. Rottweiler, no Rottweiler, ma la chiamano Rottweiler. Però ecco, pare che più un uomo è un buco, è niente, è niente, più una donna abbia comunque, grazie all'illusione ottica di amare quest'uomo, la possibilità di continuare imperterrita a essere se stessa. Hai capito? Non ho capito mai niente. Questi uomini attraggono donne che non cercano nell'innamoramento uno scambio reale, ma che vogliono solo rimanere uguali a loro stesse, in effetti se ci pensi le protagoniste di questa, adesso la terza la conosciamo troppo poco. Non potrebbero rimanere uguali a loro stesse frequentando? No, perché se frequenti un uomo che davvero esiste, inevitabilmente un osmosi, cioè un qualche cambiamento, un qualche scambio c'è. Pare che la donna evitante autarchica preferisca uomini con cui fare un po' quello che è autarchico. Evita la crescita, evita il coinvolgimento ed evita. Però queste sono coinvolti, quelle sono finite in ospedale per questo budino. La terza però, però la terza non la conosce. Per questo budino chialuto lì, invece di fare una capriola di gioia. Ma no, è finita per lui o è finita per uno stesso che lei non fa? Hai visto che stasera il dramma è diventato mondiale, perché abbiamo appreso che si stanno lasciando pure alla Casa Bianca. E' gravissima. Camere separate e lui andrà a vivere da solo onolulu fondando la Foundation Obama. Giuro! E' un'ansa di oggi e di stasera. Camere separate... E' terribile. Anche lei è una donna evitante? No, perché Obama ha un ego. No, loro si sono amatitanti. Loro somigliano più ai due protagonisti del romanzo, a due persone che sono cresciute insieme e infatti poi i capitoli che mi sono più cari oltre a quello sono quelli in cui lei improvvisamente va, la protagonista, a vedere un quadro di Vermeer. E lei era abituata per tutta la vita a portare il marito a contatto con la natura ed era abituata a farsi portare a contatto con le opere d'arte. E lei quindi decide di andare da sola per la prima volta improvvisamente. E' un capitolo che a me è particolarmente caro. E si sente smarrita perché, se ci pensiamo, quando finisce una storia d'amore molto importante chi si occuperà delle parti che non solo ha aiutato l'altro a sviluppare ma forse ha proprio inventato l'altro di noi se non siamo evitanti, se non siamo autarchici. Chi si occuperà di quelle parti? Abbiamo paura che scompaiano con l'altra persona. E invece forse se ci si impegna un po' e secondo me se non ci si concentra sul rancore verso l'altro ma sulla ricostruzione di sé quelle parti possono diventare semplicemente nostre. Alla fine l'unica coppia che è rimasta solida è Berlusconi con la Pascale. Ti rendi conto in che stato ci abbiamo ribaltato il mondo in un anno? Io sono veramente sterrefatto. No ma nemmeno io sono. Basta, parliamo di cose serie. Uno dei dieci minuti più belli, più commoventi è quello parlare a mia madre, parlare con mia madre. Cioè questo è molto bello perché poi è la bellezza della scrittura che tu passi dallo smalto color fucsia a parlare con tua madre perché la protagonista non l'aveva fatto mai veramente. Non l'aveva mai, no, non aveva mai, ma questo è incredibile perché non l'aveva mai, diciamo lei è figlia di una madre, della classica madre di un tempo, cioè di quelle madri che si occupano abituate a parlare dei figli e del marito, quindi abituate a essere a disposizione. E improvvisamente lei a pranzo dalla madre, ecco perché poi le vengono spontanee, non li aveva programmati, dice mamma ma tu come stai? E lei è la prima a essere restia a questi dieci minuti perché non è abituata a essere messa al centro dell'attenzione. E si accorge che non ha mai saputo esattamente cosa faccia la mamma da quando è andata in pensione, cioè per dodici anni. E invece è interessantissimo, questo devo dire mi è successo davvero. E' un capitolo che in effetti poi ogni esperienza vedrete, se giocherete, non solo se leggerete, ogni esperienza tocca un tasto dentro, tocca qualcosa, senza dubbio quello è il capitolo per cui le lettrici donne mi stanno scrivendo di più. Perché è un capitolo in cui in effetti, soprattutto della mia generazione, perché poi forse oggi le donne invece mamme della mia generazione sono queste mamme bambine, invece abituate, le mamme ciao come sto. E invece ecco, è vedere proprio, per questo dico è l'uscita da Egoland, perché l'uscita da Egoland che cos'è? E smettere di pensare che gli altri stanno lì a disposizione della nostra gioia o del nostro dolore, ma realizzare che hanno davvero un'esistenza autonoma e che quindi non si esauriscono nel ruolo che noi gli diamo nella nostra vita. Nel ruolo di marito, nel ruolo di madre, nel ruolo di amico gay, nel ruolo di forse, ma hanno un'esistenza autonoma che tangenzialmente ha a che fare con noi. E questo fa un po' paura, però ecco, sì, quel capitolo è... solo a mia mamma non è piaciuto. No, perché lei mi ha fatto protagonista di un libro, perché appunto lei è molto riservata di natura, sì. Però vedete, avete capito il gioco, come funziona? Cioè, quando tu fai una cosa apparentemente, apparentemente egoistica, cioè occuparti di te e per fare, per sperimentare una frontiera nuova tua, no? Della tua mente, delle tue possibilità, dieci minuti al giorno, però qual è poi il risultato alla fine? Il risultato è l'altruismo, il risultato che ti apri. Nel momento in cui tu apri la mente, poi apri inevitabilmente anche il cuore. Tanto è vero che alla fine di questi esperimenti, lei si ritroverà con una... Adesso non vi so ovviamente raccontare tutto, vi ho già raccontato il film, ci manca ancora che vi racconto anche il finale del libro, però troverete un allargamento di tutti i suoi affetti. Sarà più larga, sarà più grande, sarà più capace di amare, meno chiusa su se stessa, e invece più capace di dare agli altri. Credo che ci sia... sono sicuro che c'è una connessione. Cioè, il cambiamento inevitabilmente, ogni cambiamento ti porta ad aprirti agli altri. E noi oggi, proprio per spostarci dall'aspetto, se vogliamo, di una vita individuale, intima, a un tema pubblico, un tema che ci riguarda tutti, come società, oggi il nostro problema è proprio questo, che avendo paura di cambiare, noi ci stiamo chiudendo, ci stiamo chiudendo a tutto. Sappiamo solo più dire no, solo odiare, no, quello no, contro, contro. E tiriamo fuori tutte le cose peggiori, magari anche giuste, anche vere, anche sacrosante. Detestiamo i politici, i privilegi, tutto quanto, tutte cose giuste, ma che non costruiscono. Perché purtroppo lo sfogatoio può darti una soddisfazione o il vittimismo. Sono gratificazioni momentane. E' bello poter dire di essere vittime del mondo e avere qualcuno che ti dà una pacca sull'asfalto, c'è sì, hai ragione, ma non ti risolve il problema. Il problema lo risolvi solo quando prendi la decisione eroica, veramente eroica, di cambiare qualcosa della tua vita. Ed è una cosa difficilissima, perché la natura umana è portata sempre a fare scelte conservatrici. In fondo noi leggiamo i romanzi per quello, perché i romanzi ci fanno vedere dei personaggi che a un certo punto hanno il coraggio di fare, o sono costretti, a fare delle scelte non conservatrici che rivelano a se stessi e agli altri il loro carattere. Forse questa cosa, oltre che nei romanzi, dovremmo provarla un po' di più nella vita. Con tutto, ovviamente, i rischi che questo comporta, ma io non ho mai sentito nessuno che si sia lamentato dei propri cambiamenti. Ho sentito molte persone che hanno rimpianto di non aver cambiato la loro vita, ma nessuno che se ne è pentito. Rimanere fermi non si può. Oggi il nostro problema nelle nostre vite quotidiane, e più in generale nel nostro paese, che oggi l'Italia è un paese fermo. Fermo, piegato all'indietro, che piange su un passato che non tornerà mai più, su un mondo che non c'è più, perché comunque non c'è più e non tornerà più. E noi ci lamentiamo come era bello il mondo. E' una cosa che non c'è più. I grandi talenti lo avevano capito. Montanelli, il giorno che cadde il muro di Berlino, Montanelli che era il campione degli anticomunisti, tutti i giorni dopo andarono a leggere il libro di Montanelli, e l'articolo di Montanelli, immaginando che scrivesse «Evviva, il giorno più bello della mia vita, la fine del comunismo», Montanelli ha detto «Aiuto, questo fatto ci porterà a povertà, perché adesso sento più i muri, gente che guadagna niente sarà su un mercato e gli imprenditori utilizzeranno loro per fare i lavori e quindi noi saremo costretti per sopravvivere ad adeguare le nostre paghe a quelle di quei paesi. E questo ci porterà a diventare poveri». Il genio aveva già intuito quello che viviamo nei giorni nostri. Ma è la realtà, non puoi cambiare la realtà. O meglio, devi cambiare tu, devi adeguarti e per poterla modificare devi prima modificare te stesso. Noi invece abbiamo, e questo libro insegna soprattutto questo alla fine, alla fine se io dovesse riassumere in una riga l'insegnamento di questo libro di Chiara è che il cambiamento, qualunque cambiamento della scena che ti sta intorno, dipende sempre da te. Sei tu che devi cambiare. Non devi aspettare, ti possono aiutare gli psicologi, ti devono aiutare gli amici, hai tante persone intorno e lungo il cammino ne troverai, come ne trova lei, ma il cambiamento lo devi fare tu. Perché se tu cerchi sempre il cambiamento, che sia l'amore a portarti al cambiamento, cioè un'altra persona, che siano gli altri, gli altri, o in politica che sia il leader del momento che arriva a salvifico, parlavamo prima di Obama, Obama è un ottimo politico, ma lo avevamo talmente caricato di aspettative che adesso siamo quasi delusi perché ci immaginavamo che fosse Superman. Ma è un essere umano, non è che può da solo cambiare i grandi flussi della storia umana. Ecco, noi per un certo periodo abbiamo sognato che il cambiamento venisse da Berlusconi, adesso speriamo in Renzi, ma non è mai il singolo individuo, non c'è l'uomo della provvidenza o la donna della provvidenza. L'uomo della provvidenza sta qua, siamo noi stessi. Se noi non riusciamo a metterci in testa questa cosa, significa che continuiamo a sentirci piccoli e immaginare che ci sia qualcuno più grande che ci deve guidare. Il coraggio di questo personaggio è che a un certo punto, con questo gioco serissimo, impara ogni giorno a essere veramente padrona della propria vita e del proprio destino. Anche quando impara a fare il pancake, che non è che venga proprio questo meraviglia la prima volta, da quello che ho capito, non importa, ha aperto un'altra finestra, ha detto a se stessa, tu sei capace anche di fare un pancake. Non ti devi lamentare fare alla vittima di non essere capace a fare nulla. Tu puoi fare anche il pancake, quindi puoi cambiare davvero la tua vita. Questo è un bellissimo messaggio, io spero che leggendo questo libro vi crescano queste bollicine. Io devo dire che tanti anni fa una volta incontrai sempre in aereo, una donna, no, no, però una donna, e che mi cominciò a raccontare una storia, mi dice sai perché oggi è l'anniversario di quando mio marito mi ha lasciato peraltro per una collega, e io ho empatizzato ovviamente, e dice fra l'altro io non resisto, perché ogni notte comunque gli faccio delle telefonate anonime, e ieri fa 27 anni. Al marito, no, a questa qui, perché nel frattempo si è lasciato il marito con questa, per cui l'ha lasciata, e le insiste a fare le telefonate anonime. Mi è rimasta così impressa quella persona, ho detto l'importante è non arrivare così, cioè nella vita va bene tutto, però 27 anni di telefonate anonime no. Ma lui è Holland? No, non è? No, perché ormai mi aspetto tutto in Holland. Però ecco, no, per dire, io non ho proprio a livello, nel senso ho troppa curiosità per la vita, e questo veramente, io penso che, appunto, ma non perché, e invece c'è questa tendenza a scegliere qualcuno a cui dare la colpa o a cui dare l'attesa di un merito, e invece io penso che, e non è retorica, davvero io lo credo che il senso per me, io mi sveglio la mattina per tutto quello che, chissà adesso cosa succede, no, anche troppo, nel senso il mio problema è l'inverso, io dovrei riuscire a fare a meno delle rivoluzioni, o di, appunto, di una rivoluzione da intraprendere, o di qualcosa di urgente da fare, però non capisco come se ne possa fare a meno, ecco. Quanto ci hai messo per scriverlo? Dieci minuti, disse, no? No, ci ho messo, io diciamo che ho ottenuto il diario durante, poi ho cominciato a scriverlo ad aprile, e poi l'ho finito a... Perché diciamo, il diario va, possiamo dare delle date, giusto per fare... Il diario è il mese dal 3 dicembre al 3 gennaio, quello è vero, ho voluto rispettare proprio... Del 2000... 2012 cavallo 2013. 12-2013, sì. Sì, sì, sì. E poi, questa è stata un'idea della casa editrice, Feltrinelli, di a ogni giorno mettere l'alba e il tramonto. Sì, divertente. Questo perché, in effetti, il grande protagonista di questo libro è il tempo, che è qualcosa di terrificante quando stiamo male, ed è qualcosa di benedetto quando stiamo bene, cioè il nostro rapporto con il sole che sorge, il sole che tramonta, davvero è determinato da quello che stiamo passando e da come stiamo noi. Sai cosa ho scoperto, che si è accorta anche tu, che leggendo questi orari dell'alba e del tramonto, che il 21 dicembre è il giorno più corto, ma non è il giorno in cui il sole tramonta prima. Tramonta prima il 24-25 dicembre, ma la somma delle ore di luce è inferiore. Però io pensavo che il 21 dicembre fosse il giorno in cui il sole scendeva prima, invece non è così. Sono una stupidaggine, però. Vabbè, a me piacciono queste cose qua. Anche durante la lettura del libro ho queste mie nevrosi. a me piacciono queste cose qua.